Ci sono alcuni cibi che nonostante le calorie e le apparenze fanno insospettabilmente bene. Ecco i più inaspettati. Una ricerca condotta dall'Università di Seoul non solo ha dimostrato come il formaggio non faccia male come si crede, ma anche che alcuni tipi siano benefici per la salute. Un esempio è il groviera, che grazie alle sue sostanze probiotiche potrebbe contribuire ad allungare la vita migliorando il sistema immunitario. Un altro cibo insospettabilmente benefico è il black pudding. Questa tipica salsiccia inglese cotta con sangue e grasso di maiale farebbe molto bene la salute per merito delle alte quantità di potassio e magnesio che presenta. Sicuramente non è un alimento ipocalorico, ma gli scienziati, grazie alla scoperta di queste sue proprietà, lo stanno rivalutando. Altro super alimento per il nostro benessere è il riso, che secondo molti studi potrebbe essere il segreto di una linea perfetta. È stato notato anche che le persone che tendono a mangiare il riso spesso, se non tutti i giorni, hanno la predisposizione ad introdurre nella propria dieta più frutta e verdura. Frutti come il mango e le fragole, ricchissimi di vitamine, sono ottimi per avere una salute di ferro con gusto e una quantità di calorie contenuta.